Siamo ridosso della penultima pausa di giornata, 23 giocatori rimasti nel main sui tre tavoli distribuiti qui alle mie spalle. Il chip leader è Ovadia e Lulidi con quasi 3 milioni di chips, lo tallona Teruzzi, due che insomma sono stati sempre avanti nel count in tutto questo dei tre. Lulidi aveva disputato anche un ottimo dei due. Per quanto riguarda gli altri side siamo nelle fasi finali del 130, ha cominciato oggi pomeriggio ed è cominciato anche il satellite per le WPT. Insomma un programma ricchissimo qui a campione non soltanto nella sala 9 ma anche nella sala al secondo piano. Ci risentiamo dopo la pausa per vedere se ci avvicineremo al final table.